Ben tornati in studio con Sena Risponde, stasera parliamo di raccolta e gestione di rifiuti, abbiamo alle porte un'innovazione di sistema che ci coinvolgerà nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni con le nuove tecnologie più intelligenti, ci vogliono anche cittadini pronti, responsabilizzati a utilizzarle, in studio abbiamo Roberto Paolini che è il Presidente di Sei Toscana, il gestore che raccoglie rifiuti in tutta la Toscana Meridionale e Giuseppe Tabani che è il Direttore Tecnico della Sei Toscana. Roberto avete presentato tutte queste nuove tecnologie, vari modelli di cassonetti intelligenti, chiamiamoli così, compattatori, altre strumentazioni, però inizia adesso una fase sperimentale che ci accompagnerà per un po' di tempo, che tempi sono previsti per iniziare la sperimentazione? Appunto è una rivoluzione non solo tecnologica, ma anche di abitudini, perché logicamente comporterà il fatto che i cittadini dovranno capire il funzionamento di accesso e dovranno essere anche disponibili a differenziare i rifiuti che producono. È un progetto che parte in via sperimentale, che entro la primavera verranno fatte le prime installazioni e l'obiettivo è quello nel giro di tre, quattro, massimo cinque anni, arrivare a una copertura completa del territorio. Ecco, ma avete già individuato le zone dove iniziarla con la sperimentazione? Stiamo tuttora predisponendo il piano di intervento, però già posso anticipare che comunque verranno interessate tutte le province che utilizziamo, quindi sia Arezzo, Siena, Grosseto che parte della provincia di Vorno, la Val di Cornia e sicuramente nei capologhi di provincia e in altri comuni cercando di dare una continuità territoriale al servizio proprio per avere dei risultati più precisi nella sperimentazione. Certo, perché se uno può andarla a buttare dall'altra parte del confine dove non c'è il servizio non funziona neanche il test. Questa è la tecnologia di domani che si utilizzerà in futuro, ma stanno continuando a iniziare i servizi di raccolta porta a porta, non è che quello l'abbandonate? No, assolutamente. Quello che noi pensiamo è avere la possibilità di costruire un sistema integrato dove possa coesistere il sistema porta a porta e anche altri sistemi stradali o di prossimità che permettono comunque uno svolgimento omogeneo e distribuito sul territorio in funzione delle esigenze morfologiche proprio del territorio. Nel senso che è abbastanza difficile ipotizzare un centro storico di un certo pregio il posizionamento di cassonetti, mentre è possibile ragionare in termini di servizi di porta a porta o di servizi di accesso controllato ma con dei contenitori mascherati che si integrano all'interno di una struttura storica. Queste sono le cose architettoniche. Accesso controllato sono i famosi cassonetti di cui si parlava prima? Sì, perfetto, ma ci sono anche delle possibilità diverse anche per mascherare bidoni e contenitori all'interno dei centri storici. Questo però vuol dire anche che il servizio oggi svolto con il porta a porta non possa rimanere invariato, perché uno dei fenomeni che noi purtroppo riscontriamo sui porta a porta è quello anche qui della qualità del materiale o del rispetto degli orari di conferimento e quindi anche il sistema porta a porta per andare verso tarifa puntuale dovrà non più essere un sacco anonimo o un bidoncino anonimo del quale non si sa qual è il proprietario, ma anche in questo caso il sacchetto o il bidoncino avrà una tracciatura, nel senso che ci sarà un tag, un dispositivo che ci permette di sapere di sapere in qualche modo a chi attribuire quel rifiuto. Se in un momento senza niente lo prendete lo stesso? No, ma il problema non è tanto metterlo senza niente, il problema è capire il fattore di esposizione, perché se c'è una famiglia, se c'è un soggetto che abita all'interno di un edificio comunque produce dei rifiuti, pochi o tanti, ma qualcosa produrrà, il fatto di non avere un'esposizione, un sacchetto o di non avere un rispetto di un orario o altro è un elemento che poi va a incidere sulla qualità del servizio, sul costo del servizio e sul decoro urbano, ma anche sull'effettiva raccolta differenzata. La mancanza dell'esposizione di quel sacchetto o quel codice da barra e comunque ti comunica, ti informa che con quell'utente c'è un problema, e quindi ci dà un'informazione su cui uno può lavorare, dialogare con l'utente. Perché una cosa che dobbiamo sottolineare, bene o male qui l'aspetto della comunicazione, l'aspetto della conoscenza, è che il servizio dalla produzione, dall'abitazione fino al punto di conferimento, quella parte di servizio viene svolta dal cittadino, che ne è proprietario, noi prendiamo in carico il rifiuto dal contenitore o dal punto stradale, quindi la conoscenza delle regole, la partecipazione e la condivisione è un elemento fondamentale perché il sistema funzioni, altrimenti il sistema non riuscirà mai a funzionare, a dare risultati attesi, ma avere quel costo che tutti i cittadini vorrebbero che sia il più basso possibile. Roberto, a proposito di centri storici e raccolta dei rifiuti, sono mesi che si parla di un servizio su misura per i ristoratori del centro storico di Siena, magari in ore notturne, ho visto sui giornali che siamo vicini a una riunione finale in cui alla fine il servizio poi si farà? Sì, proprio doma all'altro, il 2 è prevista una riunione presso il Comune di Siena, dopo aver fatto delle pre-riunioni dove si è individuato come risolvere questo tipo di problemi, dove tramite le associazioni di categorie sono stati presentati dei questionari alle singole attività commerciali, si dovrebbe arrivare a dare un accordo con il Comune e col lato a svolgere un servizio notturno che possa permettere alle attività commerciali, in particolar modo bar e ristoranti ubicate nel centro storico, di poter conferire il rifiuto durante la notte. Ecco, durante la notte si conferisce l'organico? L'organico e l'indifferenziato. L'indifferenziato. Magari qualcuno comincia già a dire, forse ci sarà un po' più di rumore la notte nel centro storico. Ma la quantità di mezzi che utilizzeremo sarà veramente modesta e il passaggio di un mezzo è poco più il passaggio di una vettura, quindi il rumore sarà veramente modesto. E ipotizziamo poi nel futuro, proprio per ridurre questo tipo di aspetto, anche di poter utilizzare mezzi elettrici e questo proprio riducendo ulteriormente quello che può essere il rumore veicolare. Chiaramente anche questo è un servizio che parte, sperimentale, che viene messo in piedi proprio per evitare che durante la mattina ci siano molti mezzi che transiano nel centro quando la città comincia a aprire le proprie porte. Il vecchio problema di tutte le mattine a Siena. E nello stesso tempo è un modo per dare una risposta agli esercenti che in qualche modo la mattina avrebbero dovuto riaprire le attività per mettere fuori i loro rifiuti e quindi per venire incontro a due esigenze, una della fruibilità della città e l'altra di ridurre la quantità di rifiuti nel momento di massima vivibilità della città. Poi i ristoratori si erano lamentati perché dice se li mettiamo fuori la mattina, li dobbiamo tenere la notte dentro un negozio, ci può fare la multa all'ASD, se li mettiamo fuori la notte ci possono fare la multa gli operatori ecologici, le guardie ambientali, era diventato un po' un paradosso. Sì, questa è una soluzione penso ottimale, che possa sicuramente risolvere questa problematica. Roberto, abbiamo parlato di innovazione, di cose che si vogliono fare, ti volevo chiedere invece dal punto di vista della società come sta vivendo questa fase difficile, il commissariamento che va avanti da diversi mesi, come funziona, come vi trovate, come hai il rapporto con i commissari? Il commissariamento, diciamo siamo riusciti come società a instaurare nel profondo rispetto dei ruoli un rapporto di piena collaborazione con gli amministratori straordinari. questo è dovuto anche all'altissima professionalità delle persone che sono state nominate e devo dire che oltre appunto a professionalità e competenza hanno sicuramente, usano sicuramente anche il buon senso nella piena applicazione di tutte le regole, però sono sempre stati disponibili al dialogo, a capire e comprendere l'esigenza della società e che nella società c'è un consiglio di amministrazione che rimane rimasto in carica, nel commissariamento solitamente viene rimosso il consiglio di amministrazione, in questo caso no, perché l'attività che svolge Sei in parte esula da quello che è il contratto di servizio con l'altro. E' commissariato il contratto ma non la società? E' commissariato il contratto e non la società, però ecco c'è un rapporto di piena collaborazione che mi sembra ottenga ottimi risultati e lo dimostra anche il fatto che l'azienda non è che si è bloccata e non investe, non fa investimenti, l'attività presentata oggi lo dimostra. Il bilancio è un bilancio positivo, è sempre in attivo, un piccolo attivo, un giusto attivo. Anche con lo stesso prefetto le volte che ho avuto l'occasione di poterci parlare mi sono trovato di fronte a una persona estremamente consapevole delle difficoltà che deve affrontare l'azienda, però altrettanto consapevole di aver individuato che nelle tre persone ricoprano l'incario di amministratore straordinario le persone giuste. Ecco direttore, quando si parlava di commissariamento all'inizio e ai primi tempi c'è stato un po' di timore sia nei cittadini che credo anche fra i dipendenti che questo potesse comportare dei cambiamenti nel servizio quotidiano e anche dei problemi nel servizio quotidiano che poi peggiorasse la vita dei cittadini e creasse instabilità fra i dipendenti. Mi pare che tutto questo non sia successo. No, fortunatamente non è successo, è stato un impegno importante intanto per cercare di incontrare tutte le amministrazioni comunali, le AOR e i rappresentanti politici, sindaci. La gente normale che cos'è un AOR non lo sa. Le AOR sono le nostre aree ottimali di raccolta in cui è divisa il bacino di competenza dietro Toscana Sud. Sono gruppi di comuni che hanno più o meno servizi identici. Sì, che hanno più o meno servizi identici, perfetto. E quindi il primo impegno è stato quello di coinvolgere, di contattarli, di spiegare qual era la strategia dell'azienda, la continuità del servizio, la trasparenza, l'impegno ad ascoltarli e a modificare i servizi in funzione delle esigenze del territorio, costruire una progettualità. Oggi siamo arrivati a questa iniziativa, noi abbiamo presentato questa iniziativa proprio nella logica di dimostrare e di costruire con i nostri amministratori, con i sindaci, con Ato, una prospettiva per la gestione dei rifiuti che sia coerente con le esigenze del territorio, coerente con i tempi, coerente con gli obiettivi di raccolta differenziata. Quello che noi abbiamo cercato di costruire è di dare alla garanzia della continuità, ma una continuità che non deve essere non effettiva e non propositiva, cioè una coerenza che vada in qualche modo a sviluppare dei servizi più performanti rispetto a quelle che sono le esigenze. Abbiamo davanti la sfida del 70% di raccolta differenziata, del 60% di materiale effettivo recupero. E' impegnativa perché si parte da lontano. Si parte da lontano, bisogna recuperare, per recuperare c'è bisogno di uno sforzo importante e questo sforzo bisogna poterlo comunicare, bisogna poter coinvolgere le persone che quotidianamente amministrano le nostre città e costruire dei progetti condivisi e comuni. E coinvolgere anche le persone che operano all'interno di Sei, questa secondo me è stata l'arma vincente di Sei perché anche nei momenti di massima difficoltà io ho chiesto a tutti i collaboratori di Sei di impegnarsi ancora di più e devo dire che abbiamo avuto delle risposte estremamente positive. Lo conferma, noi abbiamo proprio nel momento di maggiore difficoltà, abbiamo ritenuto opportuno fare un'indagine su quello che pensavano gli utenti della nostra società, una customer satisfaction, i cui risultati verranno comunicati la prossima settimana che però posso anticipare almeno rispetto al rapporto tra utente e operatore, presenta aspetti estremamente positivi. Cioè avete fatto un sondaggio, anche voi eravano di moda i sondaggi, avete fatto un sondaggio e vengono fuori i valori positivi. In particolar modo nel rapporto tra l'operatore, il singolo operatore e l'utente. Ecco allora la prossima volta verrete a raccontarci più nel dettaglio questi risultati che scaturiscono da questa indagine. Il nostro tempo è finito, ringrazio i nostri ospiti, voi non andate via perché ci vediamo dopo con One to One che questa settimana è dedicata a Pierluigi Piccini. Grazie, buonasera.